Non si arresta la scea di sangue sulle strade calabresi, un uomo è morto infatti a causa di un violento impatto tra la sua auto e un pullman di linea. L'autista del pullman è rimasto gravemente ferito. Lo sconto terribile si è verificato sulla strada statale 18 al chilometro 286 nei pressi del bivio di San Gineto in provincia di Cosenza. Secondo le prime informazioni, per causa in corso di accertamento, l'automobile su cui viaggiava la vittima si è scontrata frontalmente contro il pullman di linea. L'uomo, Marco De Aloe, di 48 anni, residente a Bonifati, è deceduto sul colpo, mentre il conducente del bus è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato con l'elisoccorso all'ospedale dell'Annunziata di Cosenza. Per fortuna i passeggeri a bordo del pullman di linea non hanno riportato ferite serie, solo due di loro sono stati trasportati per sicurezza all'ospedale di Cietraro. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono arrivati anche i carabinieri, vigili del fuoco e personale dell'ANAS per la gestione del traffico sulla strada statale 18, che è risultata temporaneamente bloccata per veicoli pesanti, mentre i veicoli leggeri sono stati deviati sulla viabilità locale.